Una giornata dedicata alle importanti opportunità offerte dalla gestione attiva dei boschi abruzzesi nell'ambito dei servizi ecosistemici e crediti volontari di Carbonio, professionisti del settore riuniti nella Facoltà di Ingegneria a Roio dinanzi ad una platea eterogene rappresentativa del settore per capire come valorizzare in chiave sostenibile le aree forestali alla luce del testo unico Foreste e filiare forestale relativi ai decreti attuativi, con tanta attenzione però alla realtà delle aree interne dell'Appennino centrale. In quest'ottica si inserisce l'associazione Gesta, gestione ecosostenibile del territorio in Abruzzo. L'associazione è formata da 30 soggetti tra comune e amministrazioni separate e beni di uso civico nelle province dell'Aquila e Teramo, che ha lo scopo di divulgare i vantaggi economici e ambientali che si aprono al settore forestale grazie agli indirizzi normativi su servizi ecosistemici e crediti volontari di Carbonio. Va a tutela dell'ambiente perché questi fondi possono essere rinvestiti da chi è il proprietario del bosco, che può essere un ente pubblico, un comune, un'amministrazione separata dei beni, un privato o comunque chi gestisce il territorio può utilizzare questi fondi per migliorare il proprio territorio, quindi facendo degli interventi sul bosco stesso. Teniamo presente che con i crediti del Carbonio si danno sia a boschi che vengono anche utilizzati e sia a boschi ovviamente che vengono mantenuti intatti. I boschi hanno bisogno di manutenzione, di interventi, quindi si quantifica anche il miglioramento che riceve il bosco da un intervento di diradamento, per esempio di trasformazione anche del suo stato culturale, oppure un bosco che viene lasciato intatto acquisisce anche esso dei valori. Il vantaggio secondo me è portare un po' l'esperienza dei biomi di Sud America dall'Amazonia nel Brasile fino all'Argentina, portare un po' l'estensione che noi abbiamo nel vastissimo territorio di Sud America con la conoscenza che si trova qua in Italia in generale, in particolare nel territorio degli Abruzzi. Fondamentalmente il progetto Gesta e l'associazione nascono con l'obiettivo di legare quello che è lo sviluppo di un territorio, anzi la difesa dello sviluppo perché sappiamo tutti che le aree rurali e le aree montane in generale sono a rischio spopolamento, sono a rischio depauperamento delle attività produttive, dicevo di legare lo sviluppo del territorio a quella che è la tutela del territorio.